I volontari stanno lavorando senza sosta. Su tutto il territorio nazionale la Croce Rossa Ucraina si è attivata fin da subito per le operazioni di assistenza umanitaria, tra cui attività di primo soccorso, distribuzione di beni primari come cibo, acqua, coperte, supporto socio-sanitario e psicologico, nonché servizi inerente alle riunificazioni delle famiglie che sono state separate dal conflitto. I bisogni sono molteplici e aumenteranno sempre di più con il passare dei giorni. Per questo motivo la Croce Rossa italiana ha lanciato una raccolta fondi per finanziare le attività a supporto della popolazione civile e per la gestione degli sfollati. È in partenza il primo convoglio della CRI con derrate alimentari, medicinali e coperte per raggiungere direttamente l'Ucraina e portare gli aiuti necessari. A Fano il Comitato della Croce Rossa è attivo ma non per la raccolta di farmaci come comunicato ieri dal Comune, bensì per altre esigenze dei rifugiati. Per il momento non lanciamo nessuna campagna raccolta né di farmaci né di coperte né di vestiario né di alimenti. Per il momento è tutto fermo perché c'è una gran confusione e questa roba andrebbe sprecata. Eventualmente se qualcuno già ce l'ha e li vuole portare, pur che siano farmaci, che abbiano minimo una scadenza di otto mesi o materiale che non è sterile. Al momento ha proseguito la Presidente Daniela Camera Canna. Non abbiamo la possibilità di portarli a destinazione. Intanto è partita una colonna dal Centro Nazionale di Protezione Civile di Avezzano e dobbiamo attendere da loro ulteriori comunicazioni sui passaggi da eseguire per le consegne. Allora in questo momento siamo in contatto con le famiglie che hanno ospitato i profughi. Un pullman è arrivato anche questa notte quindi ci hanno dato comunicazione e abbiamo dato le varie indicazioni. Mettiamo in atto quello che è uno dei compiti della Croce Rossa, i ricongiungimenti familiari in tempo di guerra. Quindi chi ha bisogno di dare, che è residente a Fano e che vuole mettersi in contatto o vuole ricongiungersi con familiari che sono rimasti in Ucraina deve mandare una mail a fano-cri.it mettendo nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico della persona che è residente a Fano. In più il nome, cognome, indirizzo e residenza della persona e grado di parentela della persona che si deve ricongiungere. Tenete presente che il nostro presidente nazionale è anche il presidente della Croce Rossa internazionale. Quindi è in stretto contatto con la Croce Rossa ucraina e in tempo di guerra la Croce Rossa ha sempre agito per i ricongiungimenti familiari.